sono nel calcio da 46 anni ho assistito a mille battaglie ma uno spettacolo del genere tanto disgustoso non l'avevo mai visto e sicuramente non lo vedrò mai più è il 23 ottobre 1969 a pronunciare queste parole nero rocco il mitico allenatore del milan anni 60 il mister triestino è appena sceso dall'aereo che ha riportato i suoi da buenos aires la sera precedente i rossoneri avevano vinto la loro prima coppa intercontinentale ma l'espressione di rocco non è quella di una persona felice a rileggere le sue parole l'aggettivo che più sembra vicino al suo stato d'animo è sollevato ma cosa può essere successo se un uomo che ha dedicato la vita al calcio mai sopra le righe spesso ironico e per nulla polemico si esprime in questa maniera per capire il perché occorre tornare indietro nel tempo di cinque mesi a maggio a distanza di pochi giorni e di migliaia di chilometri milan e de studentes di la plata si laureano campioni continentali a madrid e rivera compagna annullano per 4 a 1 l'ajax che da lì a pochi anni insegnerà calcio in ogni stadio d'europa i biancorossi di zubeldia invece battono nella doppia sfida e con un 3 a 0 complessivo gli uruguayani del nazional montevideo conquistando la loro seconda coppa libertadores consecutiva saranno dunque queste due squadre a battersi nell'autunno dello stesso anno per il trofeo di miglior team del mondo la coppa intercontinentale per le regole dell'epoca si disputerà in due partite di andata e ritorno la prima milano il secondo match in argentina non sappiamo come rocco abbia preparato la doppia sfida ma di sicuro aveva dimenticato di fare una cosa molto importante alzare il telefono e chiamare matt busby allenatore icona del manchester united già perché il tecnico e i suoi sono andati a giocarsi 12 mesi prima e contro lo stesso avversario la coppa in argentina e sono tornati nel vero senso della parola con le ossa rotte la partita di andata disputata sia buenos aires finisce 1 a 0 per i padroni di casa ma più che il risultato sono le ferite alla testa riportate da bobby charton e i tacchetti con cui carlos bilardo ha omaggiato le caviglie degli inglesi a far preoccupare quelli del manchester united il tutto in un'atmosfera che descrivere calda è un eufemismo ecco probabilmente il paron con basmi non ci ha parlato altrimenti avrebbe mosso più di una preoccupazione nel doversi giocare la coppa in quelle condizioni in europa il calcio una cosa in sud america un'altra qualche assaggio di cosa vuol dire sfidarsi per un incontro del genere il milan lo aveva già avuto quando nel 1963 perse tra mille polemiche dopo tre gare l'intercontinentale contro il santos di pelè ma questa volta non hanno contro uno dei migliori giocatori della storia del calcio sono nettamente più forti e sono un team già collaudato da anni che è arrivato al suo apice difesa a 4 a protezione di cudicini il moto instancabile di fogli lodetti a centrocampo e il pallone d'oro gianni rivera ad innescare i tre davanti ossia pratis sormani e combini dall'altra parte zubeldia conferma praticamente il blocco dell'anno prima quello del double libertadores intercontinentale un gruppo compatto con poca individualità tra queste veron padre di joan sebastian che sarà giocatore della lazio il futuro ct della selezione bilardo in cabina di regia conigliaro e flores coppia d'attacco sulla carta non c'è partita e infatti così sarà la sera dell'8 ottobre a san siro davanti a 60.000 spettatori i tre attaccanti rossoneri danno spettacolo e il milan ipoteca il trofeo 3 a 0 e la netta sensazione che il divario sia enorme ed impossibile da colmare rocco che per tutta la carriera verrà tracciato di essere un difensivista manda in campo una formazione che dalla metà campo in su presenta almeno 4 uomini da 10 15 gol ciascuno più due centrocampisti sia di corsa che di sostanza e come tocco finale un terzino come schnellinger dalla conclamata spinta offensiva dal momento del terribilice fischio finale dell'arbitro francese non si potrà più parlare di calcio quel che succede da quell'istante sino alla notte del 22 ottobre più facilmente derubricabile a follia guerriglia rappresaglia termini che con il pallone c'entrano poco gli argentini sanno che fare tre gol senza subirne al milan è un'impresa ardua bisogna onorare l'incontro magari mettendoci la classica gara rioplatense in mezzo e se possibile esagerando i sudamericani decidono che metteranno in scena la replica dell'anno prima contro lo united innanzitutto chiedono e ottengono di non giocare nel loro vecchio impianto di parche del bosque ma allo stadio alberto iosè armando meglio conosciuto come la bombonera che era ed è ancora il campo più caliente dell'argentina zubeldi è conscio che andare a giocare nel loro piccolo catino nel dispersivo monumentale toglierebbe quell'ambiente che i tifosi vogliono le studiante sa che alla bocca il tifo è ossessivo talmente forte che in campo i giocatori quasi non sentono i richiami degli allenatori e che davvero gli aficionados blancos roos sono il dodicesimo uomo alla società milanista questa scelta suona strana ma non ci prestano molto caso come d'altronde non paiono preoccupati più di tanto del nome dell'arbitro si chiama domingo massaro è stato un ex calciatore cileno anche nazionale olimpico e dal ritiro è diventato un fischietto piuttosto famoso da quelle parti e probabilmente anche poco imparziale a giudicare da quello che accadrà preparato il terreno per rendere vibrante il tutto occorre individuare un nemico ed in questo caso ai rioplatensi viene in soccorso la stampa ecco il nome nestor convine è nato nei dintorni di santa feda una famiglia in parte migrata nel diciannovesimo secolo dalla francia ed è proprio lì che convine si trasferirà ancora a minorenne per iniziare a giocare a calcio comincia nel lione poi valica le alpi e per un anno sarà a torino sponda bianconera pur essendo un signor attaccante la juve lo lascia andare dopo una sola stagione varese torino stavolta granata e poi il milan nel mezzo disputerà anche 8 match con la nazionale transalpina conditi da 4 gol la nazionalità questo è il casus belli che scatena la vigilia del match di ritorno traditore giuda disertore i titoli dei quotidiani di buenos aires i giorni precedenti alla finale sono questi tutti dedicati a combini colpevole di aver scelto la francia come sua patria e sua nazionale ed anche di non aver fatto il servizio militare nel paese dove nacque un fatto quest'ultimo che diverrà la ciliegina sulla torta una farsa durata una notte intera in questo clima fortemente intimidatorio si arriva la fatidica sera giovanni lodetti anni dopo in un'intervista ammetterà fu uno sbaglio portare nestor con noi a buenos aires rocco conferma l'undici di due settimane prima e il pincia soprannome storico dei padroni di casa si presenta con qualche cambio rispetto a san siro ma nera sostituisce madero in attacco e romeo ad affiancare conigliaro nemmeno il tempo di arrivare in campo il milan si accorge cosa voglia dire ambiente caldo i rossoneri entrano prima degli avversari e un metro dopo aver varcato il sottopasso vengono ricoperti di caffè bollente lanciato dagli spalti con questo drink di benvenuto inizia una delle partite più violente della storia del calcio seconda istantanea foto di rito tutti in posa davanti ai fotografi d'improvviso dal tunnel d'ingresso sbucano quelli delle studiantes ognuno di loro ha in mano un pallone ma invece che calciarlo in porto iniziare a palleggiare lo scagliano con violenza sui volti degli avversari che rimangono immobili ed increduli passano 16 minuti dal fischio d'inizio e ramon suarez falcia nettamente prati la punta rossonera rimane a terra e si capisce subito che non è cosa da poco il fischietto cileno ovviamente non fa una piega e lascia giocare e taverna va un metro dal gol del vantaggio solo a questo punto l'arbitro ferma il gioco intorno al numero 11 si crea un capanello di giocatori medici e massaggiatori dopo un paio di minuti proprio quando l'attaccante milanista sta per rialzarsi alberto poletti il portiere delle studiantes gli rifila un calcio nella schiena con la punta del piede massaro a un metro il guardalino è poco distante il secondo riferisce al primo l'accaduto da regolamento è cartellino rosso ne sono certi tutti anche nicolò carosio che sta raccontando con la sua solita precisione professionalità la partita in diretta per la rai invece massaro incredibilmente redarguisce poletti e fa ripartire dal calcio d'angolo per i campioni di sudamerica per prati due colpi saranno talmente forti da costringerlo 20 minuti più tardi ad essere sostituito nel frattempo però i ragazzi di rocco si erano portati in vantaggio rivera recupera palla a centrocampo e scambia velocemente con combini il francese tocca di prima il golden boy sul filo del fuorigioco salta poletti ed entra in porta col pallone il gol invece che sedare gli animi carica gli argentini poletti sempre lui si scaglia contro gli avversari mentre festeggiano spingendolo detti anche in questo caso ovviamente nemmeno un giallo rognoni subentra prati poi quando il primo tempo sta per finire voi perché la coppa era già sull'aereo per linate voi per la pressione fortissima delle studiantes il risultato viene ribaltato prima bilardo si fa mezzo campo indisturbato calcia male ma la trasi non si intende con cudicini e intercetta il tiro la palla uno strano campanile il numero uno del milan è già a terra e non ha il tempo di rialzarsi conigliaro è velocissimo a toccare di testa uno a uno in quel momento l'inquadratura della tv italiana va sulle tribune della bombonera ecco nonostante la qualità sia quella di 50 anni fa quei pochi secondi rendono benissimo il concetto di bolgia da stadio si ha l'impressione che il tempio del bocca junior stia letteralmente tremando e sarà ancora peggio 60 secondi dopo i bianconeri arrivano a battere un angolo la difesa respinge ancora una volta male il pallone diventa un assist al bacio per agirre suarez il suo destro al volo passa praticamente attraverso le gambe di tutti i milanisti cudicini non la può vedere 2 a 1 e intervallo nel secondo tempo in pratica la partita non esiste di occasioni da gol nemmeno l'ombra saranno 45 minuti di caccia all'uomo una vera e propria vergogna come scrissero anche i giornali argentini il giorno dopo il più esagitato di tutti agirre suarez senza mezzi termini un macellaio già nella prima parte aveva dato un massaggio del suo repertorio un killer non si può descrivere con altre parole nella ripresa ecco il fattaccio su un rinvio di cudicini il difensore argentino invece che saltare sul pallone va diretto sul combino anzi sul suo volto naso e zigomo sono spaccati la foto che ritrae quegli attimi è emblematica nestore a terra attorno a lui due uomini dello staff rosso nero uno dei quali con un fazzoletto cerca di tamponare la ferita la maglia bianca quella usata nelle trasferte ha ormai cambiato colore il sangue arriva sino alle ginocchia si rialza poco dopo il suo avversario nemmeno ammonito può completare l'opera minuto 61 altro colpo proibito di agirre suarez massaro dopo un'ora di carneficina si sveglia e si ricorda di essere l'arbitro ed estrae il rosso diretto la scena che segue assurda il difensore rio platense protesta in maniera vehemente in campo entra chiunque e quando lui si avvia verso l'uscita passa sotto la curva pincia che gli tributa una paradossale ovazione il numero 15 ringrazia e applaude scortato da due poliziotti negli spogliatoi sono momenti talmente irrazionali che anche il telecronista argentino afferma sono applausi che davvero non capiamo al fischio finale mentre i neocampioni del mondo si abbracciano poletti prende la rincorsa e si butta su di loro a caso nel solo intento di far male colpisce lodetti con un pugno alla schiena e scatena una rissa che viene in qualche modo fermata in tempo per rocco e la sua squadra l'unico obiettivo ora è prendere il bus e dirigersi all'aeroporto in fretta per tornare in italia ma le sorprese non sono finite quattro poliziotti si presentano negli spogliatoi e arrestano con bin diserzione deve svolgere il servizio militare per l'argentina il milan è già praticamente sull'aereo ma i giocatori fanno fronte comune non partiamo senza di lui seguono 12 ore tesissime si rischia l'incidente diplomatico alla fine intervengono le due ambasciate e la situazione si sblocca con bin arriva e si torna a casa più o meno sani e soprattutto salvi appena decollati facciamo tutti insieme un grande gesto dell'ombrello ricorderà lo detti gli strascichi di quella partita porteranno il governo ad arrestare la sera stessa e condannare un mese di carcere poletti a ghire suarez e maniera il primo in seguito verrà radiato dalla federazione il secondo squalificato per 30 partite 5 anni di attività internazionale e il terzo per 20 giornate tre anni proprio quella sera la coppa entrerà in crisi le squadre europee visto il precedente rifiuteranno per ben sette volte di andare a giocare in sud america dovremo attendere fino al 1980 quando interverranno i giapponesi offrendo soldi sponsor sicurezza e un nuovo format gara secca in campo neutro l'olimpico di tokyo e un nuovo nome toyota cup durerà per 24 anni sino a che la fifa non deciderà di cambiare ancora da gara unica a torneo ad eliminazione e il massacro della bombonera rimarrà un lontano e sbierito ricordo nella storia di una competizione che non esiste più grazie a tutti